La nobile, fedele ed esemplare Universitas di Nicosia, la Costantissima, saluta l'illustrissima Augusta Eccellenza vostra, Sacra Maestà, Rex ed Imperator Carlos Quintus, condottiero invito e generoso che in questo giorno memorabile dell'anno del Signore del 1535 giungeste festosamente accolto nella nostra fedelissima città, trionfante, avendo vinto e fugato a Tunisi l'indomito tiranno Ariadeno Barbarossa, sciogliendo le catene di ventimila cristiani e liberando i mari dalle prepotenze barbariche. Questa nobilissima et esemplare città di Nicosia è sommamente lieta e onorata di accogliere la Maestà vostra. Voglia, la vostra Sacra Maestà, giudicare con clemenza le indegne accoglienze che la gente di Nicosia e di tutta la Valdemone ardisce tributarvi. Grazie.